La Via Latte è una galassia a spirale barrata che ha circa 13,6 miliardi di anni e ha enormi braccia girevoli che si estendono attraverso il cosmo. Il disco della nostra galassia ha un diametro di circa 100 mila anni luce e è spesso solo mille anni luce. Proprio come la Terra orbita intorno al Sole, il sistema solare orbita intorno al centro della Via Lattea. Nonostante viaggi nello spazio a velocità superiori a 515 mila miglia orarie, 828 mila chilometri orari, il nostro sistema solare impiega circa 250 milioni di anni per completare una rivoluzione. Quando il nostro pianeta era in questa posizione l'ultima volta, i dinosauri stavano solo emergendo e i mammiferi dovevano ancora evolversi. Ora immagina una galassia lontana, con un duplicato quasi esatto della Via Lattea, una stella molto simile al Sole e un pianeta molto simile alla Terra, con una copia quasi esatta di te. Le galassie sono simili alle impronte digitali o ai fiocchi di neve in quanto ce ne sono molte e possono avere molti tratti, ma non ce ne sono due uguali. Così è stato assunto fino a quando gli scienziati hanno scoperto una galassia che era una perfetta replica della nostra Via Lattea, che ha sbalordito gli astronomi. Restate sintonizzati mentre condividiamo tutto ciò che dovete sapere su questa grande scoperta. La Via Lattea è un massiccio sistema a spirale composto da centinaia di miliardi di stelle, una delle quali è il Sole. La Via Lattea deriva dalla forma della banda di stelle a nuvole di gas che possono essere viste attraverso il cielo notturno dalla Terra. Nonostante il fatto che la Terra si è immersa nella galassia della Via Lattea, gli astronomi non capiscono appieno la sua natura, come per altri sistemi stellari lontani. Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta due galassie lontane che sono quasi identiche alla nostra Via Lattea. Anche se le galassie a spirale come la Via Lattea sono diffuse nell'universo, i gemelli appena scoperti condividono delle caratteristiche cruciali. Entrambi, per esempio, hanno galassie satellite molto vicini simili a quelle della Via Lattea, le grandi e piccole nuvole magellaniche. Gli astronomi hanno impiegato simulazioni al computer di come si evolvono le galassie e non sembrano fornire molti esempi identici alla Via Lattea e ai suoi dintorni, portando gli astronomi a pensare che siano estremamente rari. Tuttavia gli astronomi non sono stati in grado di determinare quanto siano rari fino in questo momento, grazie a un nuovo sondaggio che esamina centinaia di migliaia di galassie. Secondo Aaron Robtham, dell'International Center for Radio Astronomy Research e dell'Università di St. Andrew in Scozia, solo il 3% delle galassie come la Via Lattea ha galassie compagne come le nuvole magellaniche. Hanno scoperto 14 sistemi galassi simili ai nostri, due dei quali praticamente identici. Robtham e i suoi colleghi stavano setacciando i dati della galassia dell'indagine sull'assemblaggio di massa, che mappa oltre 340.000 galassie nell'universo locale e non si aspettavano di trovare veri gemelli della Via Lattea. Non avevano mai scoperto un altro sistema di galassie come la Via Lattea in precedenza, il che non è inaspettato da quanto siano difficili da trovare. Questo tipo di analisi che ha portato Robtham e il suo team alla scoperta è stato possibile solo ultimamente. Il team di studio aveva bisogno di telescopi in grado di rilevare non solo le galassie, ma anche i loro fiocchi compagni. Avevano bisogno di guardare enormi regioni del cielo e soprattutto assicurarsi che nessuna galassia fosse trascurata dall'indagine. La Via Lattea viene catturata da una danza cosmica con enormi e piccole nuvole magellaniche, che possono essere viste nel cielo notturno dell'emisfero australe. Molte galassie hanno compagni più piccoli, ma poche ne hanno due massicci come le nuvole magellaniche. La galassia in cui viviamo è abbastanza comune, ma le vicine nuvole magellaniche sono un evento raro e probabilmente fugace che scomparirà tra qualche miliardo di anni. Fissare nello spazio è simile a guardare in uno specchio divertente perché la gravità deforma il tessuto dello spazio, generando illusioni visive. Molte di queste illusioni ottiche si verificano quando la luce di una galassia lontana viene ingrandita, allungata e illuminata quando passa attraverso un enorme galassia cluster di fronte ad essa. Questo fenomeno è noto come lente gravitazionale ed era previsto che esistesse all'inizio del XX secolo, dalla teoria generale della relatività di Albert Einstein. Le equazioni dimostravano che qualsiasi grande oggetto celeste, come una lente di vetro in un telescopio o in un microscopio, poteva piegare i raggi di luce che passano. Quando un enorme volume di cose, come un ammasso di galassie forma un campo gravitazionale, si piega e ingrandisce la luce delle galassie lontane, che sono dietro di esso, ma nella stessa linea visiva. L'effetto è simile a fissare attraverso una lente di ingrandimento, permettendo agli astronomi di analizzare le caratteristiche delle prime galassie che sono troppo lontane per essere viste con la tecnologia e i telescopi attuali. Gli astronomi che usavano il telescopio spaziale Hubble hanno scoperto una struttura così strana mentre studiavano i quasar, la fonte ardente delle galassie attive. Si sono imbattuti in due oggetti lineari luminosi che sembravano essere immagini speculari l'uno dell'altro. Gli astronomi sono rimasti sbalorditi nello scoprire di aver trovato un duplicato del nostro universo. Gli astronomi erano rimasti perplessi dalle peculiarità e ci sono voluti diversi anni per risolvere il puzzle. I ricercatori hanno stabilito che i tre oggetti erano immagini distorte di una galassia lontana, non scoperta, con l'aiuto di due esperti di lenti gravitazionali, ma la più grande sorpresa è stata che gli oggetti lineari erano copie esatte l'uno dell'altro, un evento raro causato dall'allineamento preciso della galassia di sfondo e del cluster di lenti in primo piano. L'astronomo della Shawnee State University, Timothy Hamilton e il team in espansione guidato da Richard Griffiths dell'Università delle Hawaii, Hilo, alla fine ha messo insieme tutti gli indizi per risolvere il mistero dopo aver seguito le teorie del vicolo cieco, chiedendo aiuto ai colleghi. Le foto allungate erano di una galassia lontana con lenti gravitazionali situata a più di 11 miliardi di anni luce di distanza. Sembravano essere versioni speculari l'una dell'altra, ma quando Hamilton scoprì le peculiari caratteristiche lineari nel 2013, questo raro fenomeno era ancora sconosciuto. Poiché Hamilton non era in grado di rispondere a molte domande, l'oggetto venne chiamato The Hamilton. È stato anche scoperto per caso nei dati raccolti dal telescopio spaziale Hubble quasi un decennio fa da Hamilton. Scoprì che le due galassie avevano la forma identica e strisce nere praticamente parallele attraverso il rigonfiamento galattico, l'area centrale della galassia dove risiede la maggior parte delle stelle, un allineamento esatto di una galassia di sfondo e di un cluster di galassie in primo piano che ha portato alla luce le due repliche ingrandite dell'immagine della galassia remota. Questo evento insolito si è verificato perché c'erano le galassie di sfondo a cavallo di un'onda nel tessuto dello spazio. Quest'ondulazione è un'area ingrandita generata dalla gravità di grandi concentrazioni di materia oscura, la colla invisibile che costituisce la maggior parte della massa dell'universo. Mentre la luce delle galassie lontane scorre attraverso l'ammasso lungo questa increspatura, si formano due immagini a specchio, così come una terza immagine vista di lato. Non è stato fino al 2015 che è emersa una spiegazione più ragionevole. Dopo aver assistito a Hamilton a presentare quest'oggetto a una riunione, l'astronomo Richard Griffiths dell'Università delle Hawaii ha proposto che il colpevole potrebbe essere un fenomeno raro chiamato lente gravitazionale, che aveva molto più senso del vedere due galassie identiche. Mentre l'oggetto di Hamilton era la conseguenza della lente gravitazionale, gli scienziati hanno scoperto un'altra galassia in un universo lontano che sembrava essere duplicata almeno 12 volte nel cielo notturno. La straordinaria immagine è stata scattata dal telescopio spaziale Hubble della NASA e potrebbe aiutare gli scienziati a comprendere meglio il primo universo. Alla galassia, che può essere vista numerose volte nella fotografia, è stato dato il soprannome di Sunburst Arc. La sua distanza dalla Terra è di circa 11 miliardi di anni luce. A causa dell'intensa pressione gravitazionale le repliche della Sunburst Arc Galaxy appaiono numerose volte nell'immagine catturata. L'arco di Sunburst è stato fotografato numerose volte nella fotografia dalla luce e dalla massa, dell'enorme ammasso di galassie visto dietro di esso. L'obiettivo gravitazionale ha prodotto quattro archi di luce distinti visibili nella fotografia. La galassia si verifica molte volte all'interno di ogni arco, con una in basso a sinistra e tre in alto a destra. Hubble impiega una lente di ingrandimento cosmica per analizzare oggetti come questi, permettendo agli astronomi di esplorare parti lontani dell'universo con dettagli incredibili. Gli scienziati che studiano l'arco di Sunburst credono che si sia formato solo 150 milioni di anni dopo il Big Bang. Se si considera che gli astronomi credono che l'universo abbia 13,8 miliardi di anni, l'arco di Sunburst è abbastanza vecchio. Secondo le note di Einstein, se un osservatore fosse posto alla giusta distanza, i raggi di luce deviati intorno all'oggetto celeste convergerebbero per formare un'immagine ingrandita. Questo è un fenomeno noto come forte lente gravitazionale, per esempio, per utilizzare il Sole come lente gravitazionale per generare un'immagine di un oggetto astronomico più lontano. Un osservatore deve essere almeno 550 volte più lontano del Sole dalla Terra. I fasci di luce non sono sufficientemente deviati in una lente gravitazionale debole per ingrandire l'immagine, ma creano invece piccole distorsioni. Anche se la deflessione da ogni ammasso di galassie è quasi visibile da sola, l'effetto combinato causa una leggera distorsione nelle viste delle galassie lontane, che può essere dedotta solo dalle misurazioni. Gli astronomi chiamano questo fenomeno taglio cosmico, misurando il redshift su ogni galassia di sfondo. È possibile separare le strutture della materia oscura che si trovano in diversi redshift. Con abbastanza galassie di sfondo a diversi redshift possiamo fare una tomografia delle strutture della materia oscura. Molto tempo fa, nel primissimo universo, gli scienziati hanno scoperto una galassia che sembra troppo avanzata per essersi formata nel breve periodo dal Big Bang. È conosciuta come SPT 041 847 ed è a 12,4 miliardi di anni luce di distanza, quando l'universo aveva solo 1,4 miliardi di anni. Le somiglianze con la nostra galassia, la Via Lattea, sono ciò che la rende unica. SPT 041 847 è un disco piatto e girevole che manca delle distintive braccia curve di una galassia spirale, alla stessa massa della Via Lattea. Inoltre ha un rigonfiamento galattico che è la concentrazione densamente imballata di stelle che si trova al centro della maggior parte delle galassie a spirale. Anche se sono state scoperte precedenti galassie a disco rotanti, SPT 041 847 è la prima ad avere un rigonfiamento galattico, contribuendo a un crescente corpus di prove che le galassie si sviluppano e si evolvono in modo notevolmente diverso da quanto ipotizzato in precedenza. Le recenti scoperte stanno iniziando a dipingere un quadro più complesso. È estremamente difficile scrutare così lontano nello spazio, ma una combinazione di tecnologia sempre avanzata e lo sviluppo di nuove tecniche di osservazione sta aiutando gli astronomi a vedere cosa c'è in quei confini lontani e torbidi. Uno di questi è il lensing gravitazionale che viene utilizzato per studiare la distribuzione della materia, delle galassie e degli ammassi di galassie e consente viste dell'universo più lontano. La scoperta di galassie identiche alla nostra Via Lattea apre un mondo di possibilità per ciò che potrebbe esistere nell'universo. Mentre lo studio continua, il nostro universo e la sua genesi rimangono un enorme enigma che sarà risolto nel tempo. Ascoltiamo i tuoi pensieri nella sezione dei commenti qui sotto.